17 aprile 1975, qualche minuto dopo le 10 di mattina. Le Duc Tho, uno degli uomini di spicco del Partito Comunista Vietnamita, riceve una chiamata. Al telefono c'è Yang Sari, il cosiddetto fratello numero 3 del Partito Comunista di Kampucea. Abbiamo preso Phnom Penh. Le Duc Tho quasi non crede alle sue orecchie. Qualche ora più tardi si reca Phnom Penh di persona. Li incontra Yang e si congratula con lui. Terminate i convenevoli, però, Le Duc Tho reclama la propria parte dell'accordo. Così, le truppe nordvietnamite attraversano liberamente il territorio cambogiano per lanciare l'offensiva finale contro il regime filoamericano di Saigon. Quel giorno, il fratello numero 1, Salo Tsar, non è a Phnom Penh, si trova a 40 km a nord-est, nei pressi di Ho Dong, l'antica capitale cambogiana. Qui sorge il quartier generale, dei Khmer russi, poco più che un accampamento nascosto negli anfratti umidi della fitta giungla. Alle 10 in punto arriva una comunicazione radio. Phnom Penh è stata liberata. Salot non batte ciglio, né esprime gioia. Negli anni si è riferito a se stesso in vari modi. Tuttavia, lo pseudonimo con cui tutti lo conosciamo, anche se non ha alcun significato, è uno soltanto. Pol Pot. Quello che vi racconteremo oggi è una storia che definire distopica sarebbe riduttivo. Il genocidio cambogiano. Non esistono stime precise, ma si ritiene che nell'arco di meno di 5 anni, tra il 75 e il 79, il partito comunista di Kampuchea condusse alla morte, direttamente o indirettamente, circa 2 milioni di persone, vale a dire un quarto dell'intera popolazione cambogiana. Il doppio di quanto avvenuto in Ruanda con il genocidio dei 100 giorni. Ne abbiamo parlato in questo video. Parleremo più avanti di quanto è accaduto. Prima di tutto, però, ho una considerazione che voglio far fare al mio collaboratore Jacopo, che mi ha aiutato enormemente per questo documentario. Ebbene sì, il video di oggi riguarderà vicende storiche, dispute internazionali, ideologie abbastanza controverse, e coinvolgerà diversi personaggi, tra cui Pol Pot, definito uno dei dittatori più sanguinari di sempre. Seguiremo però una prospettiva ben precisa. Una macchina genocida non è mai responsabilità di un singolo individuo. Sono le contingenze storiche a metterla in moto, assieme alle idee e al male forse insito nell'essere umano. Non possiamo, quindi, non abbracciare una visione d'insieme della storia cambogiana, che ha allo stesso tempo genesi ed eredità dello sterminio. Quando si guarda la penisola indocinese, è difficile tracciare dei confini territoriali ben definiti. Nel corso dei secoli l'intera area ha ospitato religioni, culture, lingue sfaccettate e ha visto l'ascesa e la caduta di più autorità politiche. Tra queste spicca sicuramente l'impero Khmer, un regno hinduista di lingua Khmer, per l'appunto, che al massimo della propria estensione, attorno al 1100, dominava su tutta l'attuale Cambogia, il suo nucleo principale, nonché vaste aree oggi appartenenti a Vietnam, Laos, Thailandia e Malesia. La più importante eredità fisica dell'impero Khmer è Angkor Wat, il Tempio della Città, un enorme caratteristico edificio hinduista, poi buddista, che non a caso è anche il simbolo dello stato cambogiano. Tra il XV e il XVI secolo, l'autorità dell'impero Khmer fu progressivamente erosa, affinché, nell'Ottocento, si ritrovò nella morsa di due entità politiche distinte, il regno siamese di Tomburi, a ovest, e la dinastia vietnamita Nguyen, a est. La dinastia Khmer pativa costanti incursioni e ingiustizie, relegata in una posizione che potremmo definire di vassallaggio. Stanco dei soprusi, attorno al 1850, il sovrano Khmer, Ang Duong, chiese l'intervento di un re straniero ritenuto particolarmente potente, Napoleone III. Già da qualche decennio, la Francia aveva infatti cominciato a mostrare interesse nei confronti di un'area, quella della penisola indocinese, che poteva trasformarsi sia in una fonte diretta di tè, caffè, carbone e caociu, sia in un trampolino di lancio per ritagliarsi una sfera di influenza in Cina. A Parigi, quindi, dovettero essere ben contenti, quando nel 1863 il figlio di Ang Duong, Norodong Prombalirac, accettò l'istituzione di un protettorato francese sulla Cambogia. Forte di questa concessione, la Francia conquistò diversi territori in Siam, scalzò la dinastia Guyenne e nel 1886 dichiarò la nascita di una nuova colonia. In un contesto simile, l'autorità dell'Ekhmer venne limitata a quella di semplici marionette. Tuttavia, regnanti e alti funzionari cambogiani continuarono a godere delle proprie ricchezze e soprattutto dei legami che avevano instaurato nel tempo. Ecco, la nostra storia inizia nel marzo 1925. Ci troviamo a Prexbaov, un piccolo villaggio di pescatori sito a circa 170 km a nord di Phnom Penh. Nella più grande delle case di legno dell'insediamento, tale Soknem, fervente e rispettata buddista, dà alla luce un bambino dalla carnagione levemente chiara. Chiama Sar, letteralmente pallido. Il padre del neonato, Salothpem, è un contadino che possiede 50 acri di risaie, il che colloca la sua famiglia nelle fasce più agiate della società cambogiana. Salothpem, a sua volta figlio di un ex-lealista antifrancese morto in un'imboscata, è uno di quei legami che il re Noradon Prombarirac ha mantenuto saldi. Difatti, in cambio della concessione di benefici terrieri a Salothpem, il sovrano richiese che la sorella di quest'ultimo, Cheng, venisse condotta a palazzo. Anche Siso Watmonivong, incoronato re di Cambogia nel luglio 28, continuò questa tradizione, esigendo che una delle figlie di Cheng, Meak, divenisse sua concubina. Ne deriva che la cugina di sangue del neonato Salothar è una favorita del re. Questo legame di re con la corte Khmer permette ai genitori di Sar di sfruttare privilegi che spettano unicamente le classi sociali più ricche e vicine alle autorità coloniali. E non è un caso se innanzitutto nel 34 spediscono il figlio presso il tempio buddista di Vatbotum Vadei. Qui, Sar viene iniziato ai precetti del buddismo Theravada, una corrente rigorista e conservatrice, la più antica del buddismo. Impara a scrivere in lingua Khmer e si sottopone a una rigida disciplina monastica. Solamente un anno dopo, nell'estate del 35, Salothar viene ammesso all'Ecole Mish, un istituto cattolico di recente fondazione, e non si mostra affatto uno studente profittevole. Certo, impara a leggere e parlare il francese, ma otterrà il diploma soltanto nel 43, ormai diciottenne. Complici i suoi legami con la corte, viene subito ammesso all'Istituto Superiore Francese di Kompong-Cham. Qui, Sar entra in contatto stretto con numerosi suoi coetanei, tra cui Kieu Sampan, che rincontreremo più tardi, e Iengsari, che abbiamo già avuto modo di conoscere. Uno dei migliori amici di Sar, però, è Lon-Non. Non è un personaggio rilevante, ma suo fratello maggiore, Lon-Nol, lo è e come. Ci arriveremo poi. In questo periodo, comunque, Salothar vive in una bolla rispetto al cambiamento che invece sta attraversando la Cambogia. Lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, la svedio di Parigi ad opera della Germania inteleriana nel 40, avevano indebolito la struttura coloniale francese. Difatti, nel 41, il vicino Siam, l'attuale Thailandia, strappò alla Cambogia gran parte dei suoi territori nord-occidentali. Poco dopo, re Sisowat Monivong giunse a miglior vita, e nel disegnare un nuovo sovrano, il regime collaborazionista di Vichy optò per il nipote del defunto re. Un ragazzo appena diciottenne che, pensavano i francesi, sarebbe stato facilmente manovrabile. Il suo nome era Norodom Sihanuk. La necessità di scegliere un monarca accomodante derivava dall'ormai palese insofferenza del popolo cambogiano nei confronti del regime coloniale. Nel 42, i primi comunisti cambogiani, ispirati dal vicino Vietnam, presero d'assalto le strade di Phnom Penh. Per la prima volta, le persone comuni sentirono parlare di una eventuale nazione Khmer libera dal gioco francese. Peccato che, nell'arco di qualche mese, sarebbero arrivati i giapponesi. Il loro dominio durò all'incirca tre anni, prima che si ritirassero nell'aprile del 45. A quel punto, il giovane re Essi Hanuk diede sfoggio di un inatteso coraggio, e dichiarò la nascita di un'effimera, prima e indipendente repubblica di Campucea. La parola Campucea deriva dal sanscrito Camboyadesa, letteralmente la terra di Cambogia, termine con cui le popolazioni dell'India definivano le aree in cui sorse il primo Impero Khmer, nell'800 d.C. Purtroppo però per sì, Hanuk, la Francia liberata tornò nell'ottobre del 45 e reimpose il proprio controllo sulla Cambogia. Anche se l'esperienza indipendentista visse giusto qualche mese, il suo impatto fu cruciale. In primis, le autorità francesi si mostrarono più accomodanti, capirono di dover giungere a un accordo con Re Si Hanuk e concessero delle elezioni democratiche. In secondo luogo, i comunisti cambogiani fuggirono in Thailandia e, finanziati da Bangkok, si riunirono nel movimento indipendentista dei Khmer Isarakh, cioè liberi, e lì rimasero in attesa fino all'anno successivo. Ad ogni modo, lontano dei tumulti di Phnom Penh nel 1947, Salo Tsar riesce a diplomarsi e due anni più tardi vince una borsa di studio che gli permette di volare in Francia. A consegnargli il premio è niente poco di meno che il re in persona, Norodom Sihanuk. Giunto a Parigi nel gennaio del 50, Sar si iscrive a una scuola per ingegneri elettronici. Questa, certo, non è la sua vocazione. Tuttavia, il clima transalpino lo cambierà radicalmente. Però c'è un fatto interessante da ricordare. Siamo infatti agli inizi della Guerra Fredda e la Francia ospita il secondo partito comunista più grande dell'Europa occidentale. In particolare, a Parigi risiede un'importante associazione studentesca cambogiana, composta da giovani giunti in Francia grazie alle scuole cattoliche di Phnom Penh, che reclama l'indipendenza della nazione Khmer. Qui, Salo Tsar comincia a partecipare attivamente ai comizi dell'associazione. Rincontra il suo ex compagno di scuola, Yang Sari, e conosce il filosofo e linguista Keng Vansak, figura di riferimento per tutti i cambogiani di Parigi. Proprio Keng Vansak introduce Salo Tsar a dei circoli ristretti, illegali, formati al massimo da sei persone, dove si leggono e commentano testi proibiti, rivoluzionari. Diventato membro del cosiddetto circolo marxista, Salo Tsar ha a che fare per la prima volta con autori come Marx, Lenin e Stalin. Non li comprende appieno. Probabilmente perché in Cambogia, un paese prettamente agricolo, non esiste alcuna classe operaio-borghese. Piuttosto, Tsar acquisisce familiarità con un libro in particolare, Sulla nuova democrazia di Mao Zedong. Secondo il principio di Mao della nuova democrazia, per raggiungere il comunismo in una società coloniale occorre attraversare due fasi. La prima consiste nell'uniformare tutto il popolo sotto un'unica bandiera contro un nemico comune, l'imperialismo, abbattere i vecchi valori feudali, borghesi, capitalisti. La seconda prevede invece la dittatura del proletariato. È proprio in base a questo principio che Mao criticò l'Unione Sovietica. Secondo lui figlia di uno stato imperialista, non coloniale. È dunque impossibile da uniformare a livello sociale. Infine, dopo aver letto la grande rivoluzione di Peter Koprotkin, Salo Tsar capisce che la rivoluzione deve essere portata avanti senza alcun compromesso, sulla base di un'alleanza tra intellettuali e contadini. Per il momento lasciamo da parte queste informazioni e torniamo in Cambogia. Qui, le prime elezioni democratiche del 46 videro emergere un partito democratico in netto disaccordo con Sianuk. Infatti, il re e la corte Khmer venivano percepiti come complici delle autorità coloniali, e per questo andavano rimpiazzati. Da un'altra parte, a Da Noi, un certo Ho Chi Minh mobilitò un esercito di 28.000 uomini contro le truppe coloniali francesi, dando inizio alla prima fase della guerra d'Indocina, inizialmente limitata al solo Vietnam. All'inizio, politici e rivoluzionari cambogiani non percepirono l'utilità di quella insurrezione. Tuttavia, quando nel 49 la Francia accorpò la Cambogia al Vietnam per meglio controllare la colonia, i cambogiani ben compresero i risvolti della lotta armata. Ad ottobre, altra tessera del domino che crollò sui francesi, fu proprio Mao Zedong, che proclamò la nascita della Repubblica Popolare Cinese e appoggia apertamente la causa di Ho Chi Minh. I Khmer Isarak, nascosti nella giungla al confine con la Thailandia, colsero l'occasione e si lanciarono contro le autorità coloniali francesi, dando vita a una durissima campagna militare. Fu soltanto nel 54, dopo anni di guerriglie nella boscaglia, che la Francia comprese di non poter più sostenere un conflitto di quel genere. E così, durante la conferenza di Ginevra, abbandonò l'Indocina. Alla di partita dei colonizzatori, sorsero così quattro nuovi stati indipendenti. Laos, Vietnam del Nord, Vietnam del Sud e Cambogia. Per i comunisti si trattò in ogni caso di una sconfitta, perché sul fronte vietnamita, benché Hanoi fosse sostenuta dall'Unione Sovietica, francesi e statunitensi erano riusciti a ritagliarsi uno spazio di influenza molto importante a Saigon, nel sud. Sul fronte cambogiano, invece, Nordom Sihanouk era rimasto re a una condizione, elezioni democratiche da tenersi nel 55. Un grattacapo non da poco per Sihanouk, bramoso di mantenere le proprie prerogative da sovrano. Infatti, il Partito Democratico, in teoria liberale e gradito agli Stati Uniti, godeva del supporto della maggior parte della popolazione. Al suo interno, però, erano confluiti diversi nazionalisti Khmer tornati da Parigi, tra i quali anche Ken Van Saak. Per di più, in quanto monarca, Sihanouk non avrebbe potuto né partecipare, né mettere bocca sul risultato delle elezioni. Più che mai in pericolo, il re optò per una mossa dal maestro. Abdico, designò come successore al trono suo padre, Noradom Suramarit, e poté dunque fondare un proprio partito, il Sankum. Gli uomini fedeli a Sihanouk così intimidirono e zettirono tranquillamente i cambogiani con la violenza e falsificarono le schede elettorali. Come risultato, il Sankum ottenne l'80% dei consensi e Sihanouk da ex re venne nominato primo ministro, in quella che a tutti gli effetti era diventata la sua personale dittatura. I comunisti cambogiani, non potendone più di un re mascherato da ministro, furono pronti a reagire. e chiamarono in aiuto il Vietnam del Nord. Ho Chi Minh, però, sosteneva che ribaltare il governo della Cambogia appena diventata indipendente sarebbe stato un male. Al posto dei francesi, infatti, adesso, c'erano gli statunitensi a controllare da lontano il sud-est asiatico, disponendo dell'alleanza di Vietnam del Sud, Thailandia, Corea del Sud e Giappone. Per il momento, suggeriva Ho Chi Minh, bisognava rafforzare i ranghi e prepararsi, in futuro, a combattere gli States. Nulla sarebbe stato più profetico. Questo disinteresse permise a Sihanouk di reprimere e denigrare in pubblica piazza qualsiasi oppositore. E proprio parlando di oppositori, il caso volle che, giusto due anni prima, anche Salot Zara avesse fatto ritorno in Cambogia. Così come i suoi compagni, Salot evitò di esporsi politicamente. Ma una volta arrivato a Prexbav, il suo villaggio natale, notò qualcosa a cui prima non aveva mai fatto caso. L'estrema differenza tra la ricca Parigi e i poveri villaggi di pescatori, tra la città, emblema del capitalismo, e la campagna. Contemporaneamente, Salot si avvicinò a un'altra persona chiave per la sua crescita personale, Keo Meas, figura chiave del comunismo cambogiano e degli Khmer Isarak. Grazie proprio ai suoi legami con i Viet Minh, cioè i guerriglieri vietnamiti che avevano lottato per l'indipendenza contro i francesi, Keo aveva viaggiato anche a Pechino, dove era stato il primo Khmer a incontrare Mao Zedong in persona. Grazie a Keo, Salot Saar si convince che la rivoluzione deve essere portata avanti secondo regole precise e va preparata con dovizia dei particolari. Nel 55, Salot Saar affitta così una casa in un distretto meridionale di Phnom Penh e, anche se non ha le giuste qualifiche, inizia a insegnare storia, geografia e letteratura francese in una scuola privata. Nel 56, poi, sposa tale Q Ponneri, figlia di un giudice cambogiano in grado di metterlo in contatto con due individui quantomeno interessanti. Uno è un predicatore buddista, Ton Samut. L'altro è un ex membro del partito comunista tailandese, Nguon Cea. Insieme a Ton e Nguon, Salot comincia a discutere di come ribaltare il tiranno Sianuk e salvare la Cambogia. I tre si riuniscono inizialmente nelle proprie case, spargono la voce e attraggono persone interessate ai loro discorsi. Nel 59, infine, nel capannone di una stazione ferroviaria, nulla di così grandioso, il piccolo movimento dà vita a una nuova formazione politica, il partito comunista di Campucea. L'obiettivo è quello di raggiungere la pace, con mezzi che sono tutt'altro che pacifici. Il partito accoglie ormai qualche migliaio di membri e tra il settembre e l'ottobre del 60 tiene una serie di conferenze a Phnom Penh in cui ribadisce la necessità di stringere un'alleanza con i Viet Minh, unico baluardo comunista dell'Indocina. La notizia, però, chiaramente giunge repentina alle orecchie di Si Hanuk, che ovviamente bandisce l'organizzazione e fa di tutto per stroncarla. Quello era un periodo storico molto delicato per Si Hanuk. Nel 59, infatti, un tentato colpo di stato gli aveva fatto credere di essere oggetto delle trame della CIA. Benché la realtà, dietro al cosiddetto complotto di Bangkok, sia ancora un mistero, tanto bastò per epurare diversi suoi fedeli. Nel 62, sempre più paranoico e meno interessato a una qualche parvenza di legittimità, Si Hanuk destituì suo padre dalla carica di re, modificò la Costituzione e si autoproclamò capo di stato a vita. Mi dispiace, ma io so io e voi non siete un cazzo. Poco dopo, stanco delle continue opposizioni al suo potere, Si Hanuk decise di distruggere definitivamente gli oppositori comunisti. Don Samut fu catturato, torturato e ucciso, Nuon Cea invece fuggì. A guidare i Khmer rivoluzionari era quindi rimasto il solo Salutsar. Tuttavia non dobbiamo dimenticarci di un fatto importante. In quel preciso frangente, mentre tutto questo accadeva, a est della Cambogia, il regime comunista di Hanoi, nel Vietnam del Nord, si trovava impegnato in una guerra di liberazione contro il governo filo-occidentale del Vietnam del Sud. A questo scopo, i comunisti nord-vietnamiti si erano dotati di una nuova milizia, i Viet Cong, che stazionava ai confini del Vietnam del Sud. E così, nella vicina Cambogia, in fuga proprio dalla repressione di Si Hanuk, Salutsar e il compagno Yang Nari ritennero saggio raggiungere uno degli accampamenti Viet Cong sulle rive del fiume Mekong. Vedendo incrementare le proprie fila, Saluts, Yang Sari e Nuon Cea capirono di potersi organizzare per rappresentare una vera e propria sfida al governo centrale cambogiano. Però, prima di tutto, per far ciò, andavano chiariti i rapporti con il Vietnam del Nord. Perché, come detto, Hanoi stava già combattendo una guerra dal 55, quella del Vietnam, che nel 64 aveva visto la discesa in campo proprio degli Stati Uniti. Ora, nella verità dei fatti, il partito comunista nord-vietnamita non voleva affatto che il governo di Si Hanuk cadesse, semplicemente perché una Cambogia instabile avrebbe significato l'apertura di un'ulteriore fronte di guerra e, potenzialmente, un accerchiamento. L'aiuto di Hanoi per i progetti dei comunisti cambogiani era dunque escluso. Così, nel 65, Salot e Keomeas, il primo Khmera a incontrare Mao, viaggiarono fino a Pechino e chiesero consiglio alla Cina. Lì, i funzionari della Repubblica Popolare si mostrarono pronti a sostenere un'eventuale rivoluzione cambogiana e offrirne addirittura il supporto materiale. Salot, tuttavia, anche per divergenze ideologiche, rifiutò l'accordo cinese. Chiamate la megalomania o schizofrenia, ma Salot si rese conto di non voler vincolare il successo della missione a una nazione terza. Non voleva essere debitore dell'aiuto altrui per riunire tutta la Cambogia sotto il segno di Angkor Wat, il simbolo dell'antica gloria imperiale. Nell'ottobre del 66, con ormai circa 5.000 insorti tra le proprie fila, si assistette comunque alla nascita del partito comunista di Kampucea. I suoi membri avrebbero combattuto con o senza l'appoggio di Hanoi e Pechino, indipendentemente da come la pensassero vietnamiti e cinesi. Nel frattempo, rintanato nella capitale cambogiana, l'ex re dittatore Si Anuk osservava la situazione da lontano. Non si aspettava affatto che una milizia che contava qualche migliaio di persone provenienti dalla giungla potesse rappresentare un pericolo. Gli etichettò con un nome dispregiativo che però sarebbe stato destinato a diventare tristemente famoso. Khmer Rouge. I Khmer Rossi. Quella che sembrava però una piccola palla di neve finì con l'ingigantirsi molto presto. Il 18 gennaio 68 il partito comunista di Kampucea lanciò la propria offensiva a sud di Battambang nell'ovest del paese. Si Anuk rispose prontamente richiamando al governo un suo fidato amico, un politico di destra che era stato già primo ministro e che era noto per la propria violenza spietata. Lon Nol. Esatto, il fratello dell'ex migliore amico di Salo Tsar. Il mondo è proprio piccolo. Sotto il comando di Lon Nol l'esercito cambogiano bombardò a tappeto l'est del paese e uccise sommariamente centinaia di persone nei villaggi in cerca dei ribelli comunisti. Si Anuk cominciò a pensare seriamente che gli Stati Uniti fossero il male minore. Si sbagliava. Perché il 20 gennaio 69 Washington accolse un nuovo presidente. Richard Nixon. Sebbene Nixon venga ricordato come colui che favorì il disimpegno delle truppe americane nel sud est asiatico i suoi primi anni di governo raccontano una storia diversa. Ansiosi di porre fine con la forza al conflitto in Vietnam Nixon e il suo entourage tra cui il ben noto Kissinger optarono per estendere i bombardamenti dei B-52 anche a due paesi che formalmente non erano in guerra. Laos di cui abbiamo parlato in questo video e per l'appunto Cambogia per distruggere le vie di rifornimento dei Viet Cong. I bombardamenti aerei sortirono due conseguenze. La prima causarono decine di migliaia di vittime tra i contadini cambogiani e com'era ovvio che fosse i sopravvissuti di questi bombardamenti indiscriminati andarono a ingrossare le file dei Khmer rossi. La seconda i nord vietnamiti inviarono armi e approvvigionamenti all'esercito di Salo Tsar potenziandolo. Davanti a questi due svantaggi Sihanouk protestò fermamente contro i bombardamenti americani e credendo di poter sbrigliare da solo la matassa viaggiò fino a Pechino per chiedere a Mao Zedong di convincere i nord vietnamiti ad arrendersi agli americani. Un po' contorto come piano. Infatti abbandonare il paese fu un errore madornale. In sua sezza gli agenti della CIA stazionati a Saigon entrarono in contatto con L'On Nol. Entrambi avevano lo stesso obiettivo distruggere i comunisti e L'On vide finalmente l'occasione di scalzare l'uomo a cui aveva fatto da ombra per vent'anni. Nel marzo 70 così L'On Nol prese a governare una nuova Cambogia pro-statunitense. Massacrò migliaia di vietnamiti presenti nel paese e dichiarò guerra al Vietnam del Nord. Quanto accadde nelle settimane successive suggell'On alleanza inaspettata segno della disperazione del delirio di onnipotenza di un uomo troppo attaccato al suo trono. Un Sihanouk destituito orgoglioso e incapace di lasciare andare il potere che deteneva da ormai 30 anni comprese che c'era un unico modo per riprendere la Cambogia adesso in mano a Washington supportare i Khmer Rossi. Con Mao Zedong come tramite i destini di Salot Sar e Norodom Sihanouk si incontrarono ancora una volta. Le forze premonarchiche a favore di Sihanouk confluirono quindi in quelle rivoluzionari di Salot e agli inizi del 72 il partito comunista di Kampuchea arrivò a contare la bella cifra di circa 35.000 effettivi finendo per controllare tutto il nord-est della Cambogia in pratica la metà del paese. Orbene come ricorderete dall'incipit di questo video la presa di Phnom Penh sarebbe arrivata tre anni dopo nel 75. Testi e documentari ci ricordano che da quel momento ebbe inizio il genocidio cambogiano. Quando però si parla di questo orribile periodo storico dobbiamo fare una considerazione cruciale. Il regime di terrore dei Kmen rossi non ebbe inizio dal nulla al contrario i semi di questo genocidio vennero fecondati proprio nei tre anni che precedettero l'ascesa dei Kmen rossi. Innanzitutto fu probabilmente nel 70 che Salot Tsar cominciò a identificarsi con il suo più noto pseudonimo rivoluzionario Pol Pot. Lo stesso fecero anche i suoi due più fidati alleati Luon Cea e Yang Sari. Infatti per semplicità ci siamo riferiti a queste persone fin dall'inizio con i loro nomi da battaglia. Lo scopo degli pseudonimi era semplice organizzare il partito secondo una struttura piramidale il cui vertice doveva rimanere sconosciuto ai sottoposti di più basso rango. Tra il 70 e il 72 Pol Pot e Nuon Cea considerato l'ideologo quest'ultimo dei Kmen rossi viaggiarono di accampamento in accampamento assieme a gruppi di soldati per proteggere i contadini fornire il loro cibo e riparo e guadagnare il loro supporto e la loro stima. Questo meccanismo mirava a favorire l'applicazione del principio della nuova democrazia di maoista memoria che prevedeva l'uniformazione della popolazione sotto un unico obiettivo rivoluzionario. Nel caso specifico ogni cambogiano avrebbe dovuto emulare la vita contadina cioè la classe sociale più diffusa del paese. Nelle cosiddette zone liberate i sottoposti dei Kmen rossi espropriarono le terre dei coltivatori che ne avevano di più abolirono il commercio e impedirono l'utilizzo di automobili e gioielli. Costrinsero poi gli abitanti a indossare un'uniforme nera e una sciarpa bianca e rossa cioè l'abbigliamento di Pol Pot e compagni. I nuovi contadini avrebbero dovuto coltivare il riso e uccidere il bestiame soltanto per il sostentamento delle comunità locali. Chi si opponeva a questa visione cioè minoranze musulmane e mercanti cinesi veniva giustiziato e gettato in delle fosse comuni. All'inizio gli abitanti dei villaggi e gli stessi soldati ritenero quelle esecuzioni un male necessario giustificato. Nel 73 i vertici del partito comunista di Campucea ordinarono la collettivizzazione delle terre nei villaggi sotto il loro controllo dove introdussero anche la coscrizione obbligatoria e una sorta di polizia interna che requisisse determinate quote di cibo. Ad oggi tutto ciò può sembrarci assurdo eppure i cambogiani delle aree rurali cioè circa un quarto dell'intera popolazione avevano vissuto decenni di costante impoverimento in favore delle autorità coloniali. Passò dunque l'idea che aderire alla rivoluzione senza contestarla fosse soltanto un passo avanti un sacrificio che infine si sarebbe tradotto in un beneficio. Poco dopo le piedine cominciarono a muoversi per porre scacco matto. Proprio nel 73 le Dutò leader dei comunisti di Hanoi e Henry Kissinger il segretario di Stato americano raggiunsero un accordo per la cessazione delle ostilità in Vietnam. La tregua durò ben poco ma fu un segno premonitore per il governo di Long Nol in Cambogia. Di lì a poco infatti sotto la supervisione di Cina e Unione Sovietica le Dutò e Pol Pot raggiunsero un accordo di svolta. Le truppe nordvietnamite avrebbero aiutato il partito comunista di Campucea a conquistare Phnom Penh. Nordom Sihanouk sarebbe tornato in Cambogia come figura di garanzia. In cambio i vietnamiti avrebbero attraversato indisturbati la Cambogia accerchiato il Vietnam del Sud e attaccato Saigon. Quest'ultimo evento si verificò il 29 aprile del 75. Ormai anche i muri hanno visto almeno una volta nella vita le foto che ritraggono la fuga precipitosa degli statunitensi dalla città. Però 17 giorni prima al di fuori della capitale della Cambogia Phnom Penh stazionavano almeno 300.000 tra Khmer Rossi Vietmine e Vietcong. Long Nol riconobbe di aver perso e gli Stati Uniti evacuarono i connazionali ivi presenti. Phnom Penh è stata liberata riferì Yang Sari al suo superiore. Era l'inizio della rivoluzione. Non appena entrate a Phnom Penh i Khmer Rossi diramarono un'allerta. Sta per arrivare un ride aereo americano. Dunque è bene che gli abitanti della città fuggano in massa verso le campagne. Si trattava di una menzogna una scusa per applicare un'ulteriore misura a favore della rivoluzione. Nell'ottica di Pol Pot infatti Phnom Penh rappresentava l'emblema di un sistema da distruggere cioè quello coloniale e capitalista. Nessun cambogiano ad eccezione degli intellettuali a guida della rivoluzione doveva più risiedervi. Così ben due milioni e mezzo di persone sulle sette totali che abitano l'intera Cambogia viene costretto a migrare verso le campagne. Molti di loro sono malati non hanno cibo non sanno dove andare nel trasferimento ne muoiono 20.000 All'arrivo di Pol Pot tutti i leader del partito comunista si riuniscono nella pagoda d'argento uno sfarzoso palazzo reale. Da lì convengono di dover aumentare la produzione agricola del paese. Il denaro viene abolito. Chi non rispetta le regole non lavora duro dimostrandosi un cattivo elemento va incontro alla morte e alla sepoltura come concime nei campi di riso. Furono queste le premesse per la nascita della Campucea democratica se così vogliamo chiamarla. Pol Pot assunse il ruolo di fratello numero uno Noncea divenne il numero due e Yang Sari il numero tre Il fratello numero quattro Chieu Sampan da tempo in politica Pol Pot l'aveva incontrato ai tempi del liceo francese A coprire il posto del numero cinque fu Tamok il macellaio capo delle forze armate L'identità del numero sei è sconosciuta ma si sa che la lista dei fratelli proseguiva ben oltre quindi i Khmer rossi si criptografavano l'anima per restare anonimi Se anche voi volete farlo oggi c'è NordVPN il partner di questo documentario Cosa fa la NordVPN? Immaginate di utilizzare internet e di non voler lasciar traccia quando navigate di voi stessi NordVPN vi tiene protetti e coperti quando vi agganciate a una qualsiasi rete wifi pubblica o privata che sia e NordVPN ha migliaia di server fuori dal bel paese con cui vai passare le georestrizioni Per esempio vi piacerebbe utilizzare Bard l'intelligenza artificiale di Google che è disponibile soltanto negli States e non in Italia Aprite NordVPN vi agganciate a un server statunitense e voilà E così potrete finalmente chiedere a Bard di scrivere per voi un romanzo su Pol Pot Scrivi un romanzo su Pol Pot dove lui trova l'amore e si converte al capitalismo poi diventa un grande filantropo e alla fine della sua esistenza apre una pescheria Io credevo che non lo avrebbe fatto ma mi ha scritto un romanzo su queste indicazioni io che cosa ho fatto della mia esistenza? Già Che vogliate navigare senza tracker guardare un documentario non disponibile in Italia o prepararvi per il premio strega con il vostro romanzo Pol Pot il pescatore filantropo NordVPN è la soluzione per voi Una navigazione libera da ostacoli e con una connessione VPN sempre veloce e stabile L'offerta è valida per un tempo limitato è più speciale della pescheria di Pol Pot e vi basterà cliccare sul link in descrizione Però tornando alla lista sconosciuta abbiamo detto che i fratelli non erano soltanto sei Difatti Son Sen il ragno dietro la tela dei servizi segreti cambogiani veniva riconosciuto come fratello numero 89 Al di là delle reminescenze orwelliane o da loggia P2 anche questa denominazione serviva a nascondere il più possibile l'identità dei leader comunisti Infatti pochissimi sapevano che Pol Pot fosse il capo Riguardo alla forma di governo la campucena democratica era governata da un presidium che fungeva da capo di stato da un parlamento e da un primo ministro Quest'ultimo incarico spettò a Pol Pot che inizialmente fu costretto ad affidare il presidium a una persona a cui ormai aveva allegato la sua vita Sì Noradom Sianuk Sì sempre lui Occorreva infatti dimostrare alla comunità internazionale Legacy Stati Uniti che il nuovo governo della Cambogia non avrebbe rappresentato alcun pericolo e che avrebbe invece seguito la saggia guida di un abile statista come Sianuk Beh se lui era saggio io sono Giuncina Non fu certo un caso che quando lo stesso Sianuk si dimise della sua carica nella speranza di fuggire nuovamente i Khmer Rossi ben pensarono di confinarlo agli arresti domiciliari servito e riverito come un re per evitare che fomentasse nuove rivolte e sostituirlo con Kyu Sanfan il fratello numero 4 a pensarci quella che toccò a Sianuk fu forse la sorte migliore tra tutti gli oppositori del regime Anzitutto i Khmer Rossi presero a indottrinare o in caso di fallimento eliminare fisicamente i monaci buddisti difatti lo stesso Pol Pot educato da Monaco in tenera età temeva la religione come oppio dei popoli e veicolo di rivolta riteneva che il buddismo teravada conservatore risultasse dannoso per la sua nuova democrazia tra virgolette in quanto motivo di disomogeneità della popolazione fu poi il turno delle minoranze etnico-religiose quelle cinesi vietnamite musulmane anch'esse colpevoli di rendere variegata la società Il paese del resto poteva raggiungere la libertà unicamente ricongiungendosi all'antico e potente impero Khmer creato da Khmer e abitato da Khmer Anche l'educazione doveva essere imperniata su questo concetto Una volta raggiunta l'età di sette anni i bambini venivano requisiti dalle loro famiglie per venire addestrati a combattere e i più giovani utilizzati come guardie e controllori delle cooperative rurali Per quanto riguardava i contadini cacciare o anche raccogliere bacche dagli alberi veniva considerato come un comportamento individualistico e dunque punibile Qualsiasi medicina che non fosse tradizionale fu proibita Tuttavia il cibo cominciò a scarseggiare sin da subito in tre quarti dell'intero paese e la malaria imperversò tra le fasce più deboli della popolazione Naturalmente ai vertici del partito comunista cioè gli intellettuali a guida della rivoluzione era consentito mangiare qualcosa di diverso dal riso concimato con carne umana Potevano pure curarsi all'estero tant'è che Pol Pot si recò più volte a Pechino per tenere sotto controllo un tumore al pancreas Considerate comunque che non tutti all'interno del partito comunista approvavano la modalità della rivoluzione In miaia tra disertori e semplici fuggitivi trovarono riparo in Thailandia o in Vietnam del Nord E conscio di questa realtà e credendo però di essere soggetto a un complotto Pol Pot ordinò ancora e ancora delle epurazioni di massa Non solo Istituì per tutto il territorio cambogiano circa 150 prigioni allo scopo di far confessare e redimere i traditori del partito A gestire queste strutture spesso scuole riconvertite furono incaricati i fratelli 5 e 89 Tamok e Son Sen La prigione più famosa è il cosiddetto Ufficio di Sicurezza 21 o S21 dove tra il 76 e il 79 vennero recluse circa 20.000 persone Ne uscirono vive unicamente 12 12 A descrivere con precisione le atrocità dell'S21 sono almeno 3 persone Ditpran internato in quanto giornalista Ban Nat il cosiddetto pittore dei Khmer russi vivo soltanto grazie alla sua abilità di disegnare dei ritratti di Pol Pot e Kang Kekiev il direttore stesso dell'S21 Per stessa affermazione di Kang detto compagno duc a partire dal 77 il campo ricevette più di mille persone al mese tra soldati funzionari governativi studiosi medici insegnanti monaci e lavoratori comuni tutti accusati di spionaggio I prigionieri venivano incatenati alle pareti privati del sonno picchiati torturati con scosse elettriche e metalli roventi soffocati con sacchetti di plastica e abusati sessualmente tutto ciò chiaramente avveniva nell'ombra tuttavia già dal 75 al momento della loro ritirata gli Stati Uniti non avevano disdegnato di sostenere qualsiasi forza politica che fosse in grado di indebolire l'ormai vittorioso governo comunista in Vietnam all'epoca lo stesso Kissinger ammise dinnanzi al ministro degli esteri tailandese ciacitai che un avvicinamento con i Khmer russi fosse il male minore addirittura rispetto al Vietnam sono delinquenti assassini disse Kissinger ma non lasceremo che questo ci ostacoli siamo pronti a migliorare le relazioni con loro faccio i miei auguri più sinceri a Kissinger per aver compiuto cento anni pochi giorni fa lo stesso ex consigliere per la sicurezza nazionale americana Brzezinski dichiaro nel 79 di aver suggerito alla Cina di supportare Pol Pot in funzione anti-vietnamita pur essendo lui stesso a conoscenza delle nefandezze commesse dal numero uno cambogiano Pol Pot era un abominio disse Brzezinski ma noi noi strizzammo l'occhio ai cinesi noi non avremmo mai potuto sostenerlo ma la Cina e la Thailandia sì dal canto suo la Cina all'epoca non aveva molta scelta era da poco uscita dalla disastrosa rivoluzione culturale maoista e gli aiuti finanziari degli states facevano molto comodo anche per far fronte alla minaccia russa a nord Russia che lo ricordiamo era alleato chiave per il Vietnam e quindi benché quanto stava accadendo al suo interno fosse un segreto di pulcinella la Campucea era nei fatti un regime isolato dal resto del mondo gli unici due capi di stato stranieri accolti nel paese furono il dittatore birmano Ne Win e il leader comunista rumeno Nicolae Ceaușescu il fratello numero uno pensò sempre di star procedendo sulla retta via benché nel 75 lo stesso Mao Zedong ormai in fin di vita e di certo non un santuomo gli avesse suggerito di non applicare misure così tanto drastiche di tutta risposta Pol Pot affermò che lo standard della rivoluzione cinese è rimasto issato per molto tempo ma ora è sbiadito vacilla convinto anche Dei la necessità di rendere la Cambogia indipendente da chiunque Pol Pot allontanò tutti e tre i potenziali alleati di cui avrebbe disposto cioè Unione Sovietica Repubblica Popolare Cinese e Vietnam ora unificato mentre i primi due pure in contrasto ideologico fungevano da eminenze grigie il Vietnam venne indicato come un regime imperialista la realtà è che dopo la presa di Phnom Penh i Khmer Rossi non avevano definito confini chiari per la campucea democratica e a noi avrebbe voluto ottenere il possesso delle sponde del fiume Mekong un fiume che ancora oggi è una preziosa risorsa idrica per entrambe le nazioni migliaia di Viet Minh stazionavano infatti nella giungla pericolosamente vicini alla capitale cambogiana e nel nord-est del paese e così ansioso di cercare un capo espiatorio per non far risaltare il fallimento del proprio esperimento rivoluzionario alla fine del 77 il fratello numero 1 ordinò all'esercito Khmer di compiere il raid nella giungla e assaltare gli accampamenti vietnamiti negli ultimi sei mesi del 78 Son Sen ordinò l'esecuzione sommaria di circa 100.000 persone nella Cambogia orientale tra cui un imprecisato numero di vietnamiti Amok il macellaio ne fece uccidere più del doppio giusto per rispetto al proprio soprannome l'escalation fu rapida dettata dalla fretta dalla paranoia e dunque dalla mancanza di raziocinio il 25 dicembre del 78 il politbureau vietnamita rispose con la forza e lanciò un'invasione su larga scala della Cambogia in sole due settimane 150.000 soldati vietnamiti conquistarono Phnom Penh e posero fine al folle progetto di Pol Pot se però pensate che questa epopea sia giunta al termine beh vi sbagliate appena invasa la Cambogia il Vietnam vi impose un proprio stato fantoccio del quale affidò il controllo agli ex soldati Khmer dissidenti che durante gli anni precedenti avevano cercato riparo proprio da noi tra loro c'era tale Hun Sen un capo di battaglione scappato nel 77 ci tornerà utile a breve fatto sta che da un momento all'altro si palesò il rischio di un sud-est asiatico pericolosamente occupato per intero dal Vietnam la situazione destò particolare preoccupazione in quel di Pechino concedere troppa libertà da noi significava potenziare il suo partner numero uno cioè l'unione sovietica così nel febbraio del 79 Deng Xiaoping ordinò l'invasione del nord del Vietnam ne scaturì un conflitto che durò appena un mese eppure fu una mana dal cielo per i Khmer rossi che con minor pressione addosso poterono riorganizzarsi nell'ovest della Cambogia ora so che quanto sto per dirvi potrà sembrare controintuitivo ma ricordate di ragionare in ottica di mero opportunismo l'invasione vietnamita permise al mondo di venire a conoscenza delle atrocità commesse dal regime di Pol Pot i giornalisti del Washington Post tra cui Elisabeth Becker presero a pubblicare le prime evidenze e testimonianze del genocidio ciò nonostante la comunità internazionale percepì l'attacco del Vietnam come l'ennesima trama dei sovietici per vincere la guerra fredda la Casa Bianca mostrò effettiva solidarietà a Khmer rossi con quella che il Washington Post definì hold your nose diplomacy la diplomazia del tapparsi il naso Pol Pot si affrettò ad eliminare ogni prova della propria colpevolezza divorziò dalla moglie Chioponnari alla quale fu diagnosticata la schizofrenia abbandonò l'uniforme nera ordinò la fine delle esecuzioni e della collettivizzazione e cambiò persino pseudonimo in Fem il nome di suo padre poi il colpo di grazia forse la più ridicola e allo stesso tempo triste delle beffe nel novembre del 79 il re Norodom Si Hanuk fuggito dalla Cambogia dopo l'invasione vietnamita parlò alle Nazioni Unite in quanto perso un autorevole e indicò il vero nemico non Pol Pot bensì il Vietnam ma bisogna essere degli stronzi però quello stesso mese l'assemblea dell'ONU decretò che i Khmer rossi dovevano essere ancora il governo legittimo della Cambogia per dieci anni fino all'89 40.000 soldati continuarono a combattere in una Cambogia devastata non più per l'ideologia rivoluzionaria ma per una nuova liberazione nazionale contro il Vietnam spalleggiati anzitutto dalla Thailandia a sua volta sostenuta dagli Stati Uniti gli States infatti ancora una volta suggerirono ai Thailandesi di lasciare utilizzare ai Khmer rossi le loro basi per meglio organizzare le manovre contro il governo fantoccio che il Vietnam aveva imposto l'operazione fu motivata non solo per motivi strategici ma anche come ritorsione e vendetta per la sconfitta della guerra conclusa tre anni prima a tal scopo l'amministrazione Carter inviò aiuti ai Khmer rossi per tramite della Kampuchean Emergency Group a Bangkok lo stesso Si Hanuk riconobbe la presenza di consiglieri della CIA negli accampamenti dei Khmer rossi alla fine degli anni 80 nella sostanza dei fatti l'ipocrisia made in USA era sempre la solita condannare pubblicamente l'operato dei Khmer ma aiutarli sotto banco per non voler pagare lo scotto della fallimentare guerra in Vietnam il supporto logistico incancreni più del dovuto al conflitto in Cambogia prolungandolo più di quanto fosse necessario nell'85 Pol Pot si dimise da comandante in capo delle forze Khmer allontanandosi sempre più dalla vita politica lo fece sicuramente per ripulirsi e non essere associato allo sterminio di innocenti ciò nonostante la mezzanotte del fratello numero uno tardò a scoccare con la caduta del muro di Berlino anche il Vietnam conscio di non poter più godere del supporto dell'URSS mollò la presa sulla Cambogia e concordò un cessate il fuoco con i Khmer russi tra il 90 e il 92 l'ONU cercò di risolvere pacificamente la situazione e di favorire una transizione democratica convocò quindi al tavolo delle trattative di Phnom Penh le tre principali personalità cambogiane del momento la prima Kheo Sampan in rappresentanza di Pol Pot la seconda Hun Sen il disertore diventato primo ministro della Cambogia sotto il controllo vietnamita la terza ancora Norodom Sihanuk no basta ma qualcuno non lo può togliere dalla scena questo qui per favore i colloqui portarono a nuove elezioni democratiche da tenersi nell'estate del 93 fatto sta che al sentire il termine elezioni democratiche i Khmer rossi le boicottarono e si ritirarono nuovamente nella giungla le schede scrutinate decretarono una doppia vittoria quella di Hun Sen e quella di Sihanuk Hun Sen divenne primo ministro e Norodom Sihanuk venne incoronato re per la... boh ormai ho perso il conto Sihanuk ha mantenuto il trono fino al 2004 quando abdicò in favore del figlio Norodom Siamoni l'attuale sovrano di Cambogia Norodom Sihanuk è morto il 15 ottobre 2012 in un ospedale di Pechino dove era ricoverato per un cancro al colon o perlomeno credo sia morto potrebbe sempre tornare e incoronarsi come ha sempre fatto ad oggi il primo ministro cambogiano è ancora Hun Sen che il 4 marzo 2023 ha condannato a 27 anni di prigione il principale leader dell'opposizione la legge dell'eterno ritorno insomma ma parleremo della Cambogia attuale in un video futuro chissà magari in un reportage laggiù sogniamo non costa nulla ebbene credo che sia arrivato il momento di tirare davvero le somme già nel 77 i giornalisti John Barron e Anthony Paul pubblicarono sulla rivista Reader's Digest delle interviste intrattenute con rifugiati campogiani e stimarono che a quel punto Iqman Rossi avessero sterminato più di un milione di persone nel 78 il prete cattolico François Poncho che fu testimone dei primi anni di atrocità nelle campagne cambogiane pubblicò il libro Cambogia anno zero eppure quello stesso anno cinque ragazzi appartenenti a un'associazione maoista svedese visitarono la Campucea democratica riportarono l'efficacia della rivoluzione in atto e come questa fosse un modello da seguire in sostanza non videro nulla realizzarono anche un documentario dal nome inquietante il sorriso di Pol Pot Pol Pot Sliand in svedese Noam Chomsky ad esempio sostenne nel 77 che la realtà dei fatti fosse stata ingigantita per fungere da propaganda statunitense e anticomunista sicuramente i media occidentali polarizzarono il dibattito adducendo la colpa a un generico comunismo ed è vero quei due milioni di cambogiani in gran parte morirono come conseguenza di politiche economiche del tutto fallimentari ciò non toglie che quelle persone morirono per colpa dei Khmer rossi ci sono prove evidenze inconfutabili dalle fosse comuni alle prigioni dalle storie di donne uomini e bambini che hanno vissuto un inferno in terra ora potremmo fare mille discorsi sulle colpe di Vietnam Francia Stati Uniti Russia all'epoca Unione Sovietica e compagnia cantando per gli anni del genocidio del periodo che va dal 75 al 79 la responsabilità ricade tutta sulle spalle di Pol Pot e del partito comunista non v'è dubbio tuttavia una Cambogia in balia degli interessi stranieri occidentali e non della politica internazionale e dell'ego di Sianuk ha visto altre decine di migliaia di vittime prima e dopo l'orrendo esperimento della campucea democratica tutto sulle spalle di persone che avevano l'unica colpa di essere pedine di un gioco perverso punto e qui la domanda sorge spontanea che fine hanno fatto i Khmer Rossi tra il 93 e il 97 4.000 soldati continuarono ad agire come gruppo ribella ai confini con la Thailandia non possiamo durare così a lungo confessò Pol Pot a Yeng Sari fu una chiara presa di coscienza da parte di un uomo che solo alla fine della sua meschina esistenza era tornato ad essere Salotsar pallido consumato dal cancro paralizzato per metà per via di un ictus nel 96 il fratello numero 3 Yeng Sari si consegnò al governo cambogiano e ricevette il permesso di vivere dal libero cittadino al confine con la Thailandia in attesa di un processo tutta questa è una storia che non può che terminare malissimo nel 97 Salotsar capì che i suoi vecchi compagni di partito volevano tradirlo fece dunque assassinare Son Sen il fratello numero 89 assieme a tutta la famiglia poco tempo più tardi Tamok e Nguoncea si ribellarono al loro vecchio leader Salotsar e lo confinarono nella giungla di Hanlongbang sede dell'ultimo campo dei Khmer Rossi il giornalista americano Nate Thayer fu invitato da Tamok in persona ad assistere al processo del fratello numero 1 secondo Thayer Tamok e Nguoncea lo scelsero come testimone indipendente per scagionarsi dai loro crimini e dimostrare al mondo che sì proprio loro avevano messo dietro alle sbarre Pol Pot il mostro in ottobre a Thayer venne concesso di intervistare un decrepito Salotsar voglio farti sapere bisbigliò Salot che ho fatto quel che ho fatto per la rivoluzione per il nostro paese non per uccidere i cambogiani guardami ora pensi che io sia una persona cattiva la mia storia è la storia del nostro movimento mi pento di non essere stato in grado di controllarlo fino in fondo il 15 aprile 98 Salotsar muore di infarto in una capanna nella giungla senza mai aver scontato una pena e probabilmente senza rimorso Nguoncea e Kyo San Phan si arresero volontariamente all'esercito cambogiano fu garantita loro l'immunità temporanea Tamok l'unico a non arrendersi venne imprigionato nel 99 siete tre stronzi la storia di oggi si chiude purtroppo con l'amaro in bocca nel 2001 l'ONU e il governo cambogiano istituirono un tribunale speciale per la Cambogia l'obiettivo era quello di punire unicamente i piani alti del partito comunista di Kampucea la spiegazione? indagini troppo invasive avrebbero potuto generare una nuova guerra civile e ormai tutti gli ex soldati Khmer stavano venendo reintegrati nella società ma quel che ne è venuto fuori assomiglia più che altro a una bella presa per i fondelli la prima accusa del tribunale venne mossa il 31 luglio 2007 a Kang Kek Kiep il sovrintendente dell'S21 Kang si dichiarò pentito e ammise di aver fatto uccidere almeno 16.000 persone più avanti però riferì di aver agito sotto pressione di un partito criminale e chiese di venire rilasciato la condanna definitiva è arrivata unicamente nel 2018 Kang è morto 3 anni fa il 2 settembre 2020 Yeng Sari Nguon Cea e Kyo Sampan sono stati arrestati nel novembre 2007 fino a quel momento hanno vissuto in lussuose ville circondate da filo spinato Yeng Sari è stato incriminato di genocidio nel 2009 è però morto il 14 marzo 2013 prima che la corte emettesse un verdetto Nguon Cea e Kyo Sampan sono stati gli ultimi leader dei Khmer rossi a essere stati condannati per sterminio e crimini contro l'umanità nel 2018 Nguon Cea è morto un anno dopo nel 2019 alla veneranda età di 93 anni Kyo Sampan è invece ricorso in appello la sua sentenza è stata confermata il 22 settembre 2022 si tratta dell'ultimo capo dei Khmer rossi ancora in vita con un costo totale di 330 milioni di dollari il tribunale speciale per la Cambogia sta per chiudere i battenti avendo emesso unicamente tre condanne il potere dell'omertà e dell'ostruzionismo ovviamente si tratta di un argomento difficile da districare come si giudica qualcuno che ha agito per evitare di subire ripercussioni sia per se stesso che per la propria famiglia l'eredità del genocidio è ancora vivida tra i cambogiani scuole e centri di informazioni sono stati autorizzati soltanto da una decina di anni a parlarne apertamente alcuni centri di detenzione sono stati trasformati in musei come l'S21 il corpo di Pol Pot cremato e sepolto nel villaggio di Chowam Sangam persone del posto ma anche proveniente dal resto della Cambogia percepiscono incredibilmente questo luogo come un santuario vi offrono cibo sono convinte che lo spirito di Pol Pot sia in grado di curare la malaria e in generale di portare fortuna in fin dei conti ritengono il fratello numero uno si è sempre schierato a favore dei contadini sicuramente il rapporto dei cambogiani con il loro passato è complicato frutto di storie e culture variegate diverse contrastanti e quindi in chiusura giova a ricordare ciò che riferì la seconda moglie di Pol Pot tale Muon allo stesso giornalista americano lei disse vorrei far sapere al mondo intero che mio marito era un bravo uomo ecco io forse risentirei sul bravo ma sicuramente Salo Tsar era un uomo non il diavolo né tantomeno un dio e questo penso sia ancora peggio sapere che a capo di tutto questo sistema vi era un uomo e intorno a lui tanti altri piccoli seguaci il male come ricorda Anna Arendt è banale è la mancanza di idee a far sì che si propaghi ma è anche la presenza delle stesse a generarlo per aspera piccolo commento post produzione a fine video dopo essermi sparato 55 minuti di editing della Cambogia aver sognato i cambogiani pure di notte pretendo pretendo di essere incoronato nuovo re di Cambogia dopo Sianuk me lo dovete fare Grazie a tutti.